Via! In diretta dal direttivo di Aosta Ad apri... no, aspetta, quant'è? Il 21 marzo, 2 aprile Vai, vai, in diretta, in setta, in diretta 31 marzo, 2 aprile, siamo qui in diretta sotto le neve da Aosta Assemblea Nazionale dei Soci Possiamo calmare il mondo Noi ci crediamo, ma abbiamo bisogno di voi Dovete dirci dove dobbiamo andare Venite, venite con noi A Pado, a Pado, a Pado Grazie!